Ho fatto un finanziamento per acquistare la mia PS5, ma adesso non riesco più a pagare le rate. Non so che fare. Utilizza la regola 50-30-20. Che sarebbe? Questa regola ti aiuta a risparmiare e a gestire i tuoi soldi. Il 50% delle tue entrate spendile per cose necessarie, come ad esempio il cibo oppure l'affitto. L'altro 30% spendilo per i tuoi desideri, come ad esempio viaggiare oppure fare shopping. E il restante 20% risparmia. Investi o, come nel tuo caso, utilizzalo per pagare i tuoi debiti. Wow, grazie mille!